la giornalista ha risposto tramite social alle affermazioni fatte dalla vincitrice di ballando e da mariotto entrambi ospiti di serena bortone nonostante ballando con le stelle sia finito ormai da giorni questa edizione continua a far discutere e parlare perché se da una parte in questo caso guillermo mariotto e luisella costamagna c'è chi ancora va in tv a parlare di selvaggia lucarelli dall'altra parte lei tramite i suoi profili social continua a rispondere per esprimere la sua opinione in questo modo va a creare un circolo vizioso senza fine il nuovo scontro nasce dalla decisione di mariotto e costamagna di andare come ospiti da serena bortone a oggi è un altro giorno in cui hanno parlato del modo in cui la giornalista avrebbe monopolizzato la discussione su quanto successo a ballando lucarelli che ora è in nepal si trova in vacanza con lorenzo biaggiarelli è stata avvertita da alcuni follower che i due stavano parlando di lei in tv e così ha deciso di rispondere madonna ma state ancora parlando di me il 2 gennaio state passando delle feste eccitatissime ha scritto la giornalista comunque vi ringrazio perché ormai fate tutto voi non mi devo neppure scomodare a cercare video dello scalda pubblico girati dallo stesso pubblico basito mi chiedo solo perché questa gente debba ridicolizzarsi così lucarelli poi vuole sottolineare che lei non è andata in tv tanto quanto altre persone a parlare di ballando e delle dinamiche del programma riguardo a selvaggia lucarelli monopolizza troppo il dibattito be detto da chi il 2 gennaio è in tv a parlare di me è divertente soprattutto perché io ci ho tenuto così tanto a monopolizzare il dibattito che fuori da ballando ho fatto un'unica ospitata tv da matano e lorenzo una da bortone in tre mesi e mezzo mentre gli altri si facevano e si fanno il giro delle sette chiese a 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